Martedì 6 alle 18 si terrà l'atteso Consiglio Comunale di Teramo. Sarà un Consiglio Comunale cruciale? Sarà un Consiglio Comunale cruciale? Non lo so, vedremo. Banco di prova per il sindaco? Banco di prova io ne ho tutti i giorni perché i problemi sono tanti. Consiglio Comunale alle ore 18 con all'ordine del giorno le comunicazioni del sindaco, i 10 milioni di euro del masterplan che non è cosa di secondo piano decidere come utilizzare quei 10 milioni di euro ex funivia che la regione ha rimodulato e poi un terzo provvedimento su un bando che abbiamo vinto e quindi bisogna un passaggio di Consiglio Comunale nell'ambito del sociale. Questo è il Consiglio deciso, un appuntamento sicuramente molto atteso da tutti, molto sereno. Sarà un momento importante anche per la sua maggioranza? Lei ha avuto degli incontri con i dissidenti e non solo, come ci è arrivato a questo Consiglio? Come ci arriva il sindaco Brucchi? Il sindaco Brucchi ci arriva con grande serenità, conscio e consapevole di aver fatto tutto quello che era nelle sue carte per far sì che questa città possa avere ancora un governo. Poi è chiaro che io farò le mie comunicazioni e sono io che chiederò ai consiglieri comunali di esprimersi, di esprimersi non nei confronti del sindaco Brucchi, di esprimersi nei confronti della città. Una sorta di fiducia verso questa amministrazione chiederà? No, guardi, non è prevista che si chieda la fiducia. Io chiederò a ognuno di esprimersi e dalle espressioni di ognuno si capirà qual è la volontà del Consiglio comunale perché, dicevo, qui sembra che i 4.500 sfollati non ci sono più, che le 1.350 ordinanze non ci sono più, che i 122 appartamenti inagibili su 140 dell'Ater di colpo sono spariti, che la zona franca di fatto non interessa più nessuno, che tutti i problemi e i temi per la crescita e lo sviluppo di questa città siano passati in secondo piano. Per me non è così. Intanto, un punto a suo favore, finora lo ha incassato, perché nessuno della maggioranza, compresi i dissidenti, ha firmato la mozione di sfiducia proposta dalla minoranza? Guardi, questa è la prima volta che commento questa cosa, che voglio dire, per quanto mi riguarda lascio il tempo che trova. È chiaro che l'opposizione deve fare quello che ritiene opportuno. Io, diciamo, prima mi sarei sincerato di avere le 13 firme e poi aver presentato la mozione. La politica, le regole semplici della politica vogliono questo, però ognuno fa come ritiene opportuno e l'opposizione fa quello che ritiene opportuno. Non sto esprimendo giudizi, faccio solo una valutazione di carattere generale.